bella bella ragazzi incredibile incredibile un giocone pazzesco di marco drums game channel the chick ci vi porterò tutta la serie di questi giochi strafichissimi meravigliosi un platino incredibilmente difficile altro scordatevi souls like blood ball elderling quelli sono robe semplici andiamo con the chick ci raga l1 un uovo un eggs grandissimo difficoltà estrema incredibilmente difficile incredibilmente difficile secondo trofeo incredibilmente difficile incredibilmente ragazzi questi giochi sono quelli pazzeschi altro trofeo peccato che non riuscite a vedere la scritta ma è una cosa incredibile 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 trofeo bronzo e andiamo e andiamo amici miei andiamo amici miei andiamo amici miei con questo platino incredibilmente trofeo trofeo mi raccomando di tradurre questo mio video anche in tutte le lingue inglese francese portoghese spagnolo trofeo perché talmente bello spero vi porterò tutta la serie ragazzi ve li porterò tutti allora abbiamo avuto il maialino abbiamo avuto la pecorella e adesso abbiamo avuto la gallinella con le uova d'oro no ancora un argento ancora un argento vediamo quando ci sarà il trofeo d'oro uno dei tampuri oro e cominciamo con gli oro a 5.500 quanti oro ci da incredibile ragazzi incredibile incredibile dal vostro marco drowns games solo giochi di qualità solo mega 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 giochi mega giochi fighissimi e noi continuiamo a trofeo trofi 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 e trofeo allora se la difficoltà l'hanno tenuto identica sto giocando a ultra difficile ragazzi trofeo se la difficoltà è la stessa praticamente 10.000 avremo il platino di questa trofeo meravigliosa esperienza la chiamerei la chiamare un'esperienza trofeo un'esperienza di vita devo dover fare almeno una volta nella vita trofeo vi ricordo ragazzi che è in versione playstation 5 questo gioco è playstation 5 trofeo e rullo di tamburi amici miei platino che figata pazzesca ragazzi un bel un bel platino un bel platino a puffa come direbbe tutti quanti dicono un traffico un bel platino gratis ragazzi mi raccomando di seguire i miei video di attenti su marco drowns games channel su youtube facebook twitter instagram tt toc twitch discord we chat anche se non la uso non so neanche usarla però fa niente ma l'importante è twitch e youtube attivate la campanellina mettete un bel mi piace commentate io poi vi rispondo e vedete tutte le mie fighissime mitiche live su youtube che le salvo tutte le metto con tutte le belle migliaturine dentro la playlist è tutto da marco drowns games channel alla prossima ragazzi io vi saluto vi ringrazio vi aspetto per il prossimo gioco che non so che cosa sarà con la d sarà dog the dog d facciamo un pronostico the dog d vi aspettiamo quando uscirà the dog d su playstation 5 con marco drowns games channel ciao a tutti ragazzi ciao a tutti Grazie a tutti